un pezzo non stacco adesso a livello spiegare i parapetti due livello spiegare i cordoli per tre mi dice e c'è tutta sta parte qua perché mi butto da sotto firmo che è successo questo questo pezzo perché manca questo pezzo qua finisco via la magna fino a lì posso farle normale e le pepette ma lo direi ha fatto quello lì ho fatto quello lì anche a posto quindi scusa anche questo qui questo è un parapetto ah si vede che magari sopra devo fare il parapetto il parapetto tanto finisco di fare quello che devo fare quello lo posso fare normale perché è salendo su che cosa è successo cos'è successo sei caduto sei caduto nello spazio niente vedo qui un pochettino quanto poi fai l'uso ok allora mettiamo la pistola con la normale questa qui questo e facciamoci questo per il momento attimino veloce veloce il contratto è quasi finito lo fa solo i parapetti e basta questo invece sto conto lo qua mi dice e magari non l'ho fatta ok l'ho fatto facciamoci così facciamoci sto pezzo ci salto su molta c2 ok questo è il parapetto ma va bene se mo il parapetto due parapetti mi mancano questo e l'altro ok ok qui non ci sono pescate c'è in scale le assi la pulita Grazie a tutti. Ah, quello sotto l'ho fatto il quadro. Ho fatto anche questo. Mi manca il parapetto questo qua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.